ho una moneta gigante una scatola e due sportelli chiudo lo sportello l'altro sportello ricordi la moneta sta in questo scomparto vedi adesso schioccando le dita la moneta e tutto vedi così sparirà guarda soffio è sparita no non è sparita è semplicemente andata a destra no no tu dici che sta qui no guarda la moneta non sta qui basta fare così e ti rendi conto che avendo lo sportello la moneta non sta qui è proprio sparita è incredibile no? vedi c'è la fessura la vedo passare io la vedo passare no no ma stai facendo così la moneta è scomparsa come fa a passare non c'è più la moneta l'ho vista sta lì a destra come ho detto la moneta è totalmente scomparsa è incredibile guarda non sta qui non sta qui non sta nessuna parte a me è sparita eh non puoi dire questo gioco lo faccio tutti i giorni a me la sparisce sopra eccola eccola l'ho vista sta dietro dove? dietro ce l'hai dietro non c'è sta dietro non c'è sta dietro non c'è sta dietro a te che vuol dire da me no eccola 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 dietro dietro la schiena ah dietro la schiena ah ah grazie 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 grazie